hai molte domande bella a tutti raga sono sergi adri abbatati sul mio canale oggi siamo qua con la missione numero 8 di call of duty events warfare un'unità mista a guida americana chiamata la missione indagare sugli amici che siamo scappati dall'atlas e la missione scorsa abbiamo ucciso ates una minaccia più grande un uomo pronto a sfruttare questa tragedia per i suoi amici siamo atterrati dopo gli attacchi a dire così siamo alleati e con la sicurezza sentine infrastrutture e rotte nazione dopo nazione hanno affidato le loro risorse vitali a jonathan irons ormai era cosa fatta si circondava ultimamente c'è stato un picco di comunicazioni is a c'è un termine ricorrente manticore atlas sta per colpire ma non sappiamo come salvarti è stato rischioso ma puoi aiutarci a scoprire cos'è manticore e a fermarlo allora amici ci stai ma cazzo che data eccolo siamo arrivati al momento cruciale è bello di avervi tra noi nonostante la situazione avremo contro i nostri vecchi compagni gente che ha lottato con noi so che è dura ma so anche che potete farcela oggi si decide tutto squadra l'operazione lone wolf può iniziare grazie a michelle sappiamo che irons ha in programma un incontro nella sua tenuta io guiderò l'inserimento e i seal penseranno all'estrazione irons è la priorità ci infiltreremo per scoprire la sua prossima mossa si comincia nox situazione mi sto collegando alla rete dei droni ben coccano te grandi ragazzi te grandi fatto allontano le patuglie via al tempo kingpin siamo all'ingresso ricevuto bussate pure ganci pronti kingpin procediamo al checkpoint 1 ricevuto mi teniamo d'occhio il rampino diciamo che è un po' più efficace questo di quello di un parcai è la reggia di irons ecco che cosa si ottiene ammazzando gli innocenti io rintraccio irons dobbiamo esserci quando incontrare il suo contatto il lona vieni andiamo mitchell attivo la tua ottica a r tracciamento bersaglio online ok marco ottica a posto sincronizzazione con la rete dei droni possiamo tracciare chiunque nel raggio di 500 metri ok mitchell vai al centro sicurezza e collegami ai loro sistemi ok ok camoni non capire magari fermo nemici a sinistra famigliонов sto evitando in case entrano i cespulli sistema anche quell'altro aspetta che si avvicini Saremo furtivi. Uccidilo. Ok, Mitchell. Il centro sicurezza è sul retro. Devi fare il giro. Vedo vari accessi al centro sicurezza dalla tua posizione. Molte opzioni. Due sicurezza là dietro, quindi cerchiamo lì. Con il neppianto è sempre sicuro. Quattro. Ottimo, libero. Ho preso l'altro. Non colpire bersagli allo scoperto. Concentrati. Devo entrare nei loro sistemi. Concentrati. Devo entrare nei loro sistemi. Concentrati. Devo entrare nei loro sistemi. Che merossi. Certo, mi troverai lì alla Oggi Mike ha pensato bene di sfidarmi a te Allora, ma che figlio Non mi devo più adesso Spero io che gli facevo il tuo Perché aspettare domani? Giochiamo adesso A quest'ora? Sì, perché no? Il campo è pronto Ha un sistema che analizza la partita nei minimi dettagli Puoi rivedere la traiettoria a corti O la distanza media di ogni tiro Una cosa assurda Sì, e vede quanto... Che uscire di qua sia una cosa un po' impossibile Però vabbè, ci proviamo Durante la partita può darti suggerimenti e dirti dove l'avversario ma non la paga La mia palestra hanno qualcosa di simile Ma non così sofisticato Vieni con noi Per sfidare invece la vera non è possibile Sì, sono io Ottimo, sali sul tetto Pure muestra Drone, giù, non sparare Prepara la micro EMT I sistemi saranno fuori uso per un paio di minuti Vedi di sfruttarli Speriamo che le impronte digitali funzionino Trasmissione impronte Abbiamo ancora l'importa digitale Di quando eravamo all'Aplas appunto Vattene, i droni si riattivano Torna sul tetto Veloce Mitchell Gormack, siamo dentro Ben fatto Mitchell, vediamoci nell'ufficio di Aeros Ilona, coprici Riturato Mitchell, al giardino davanti Resta nell'onda Ok, non sarà facile attraversare troppe variabili Minchia, cento metri Ricorrerò meglio che posso No? Però qui c'è da fare il giro largo, ragazzi Non c'è alternativa Tutto visto? No, Berman è fuori servizio Fuori un altro Ok Avvio sessione Singolo Vattene Partita 1 0 a 0 Servizio Dicono che gli verranno Speriamo Nasconditi il servizio Ok, ragazzi Senza Uccidere quella là Siamo riusciti A Fuggire Meno male Esistono le piante, ragazzi Meno male Ok, bisogna levarci dalle palle Il drone Perfetto Il drone Perfetto Il drone Perfetto Il drone Si può fare il retro? No Si può fare il retro? come mai non mi hanno visto eccoci qua all'ufficio di Arons ragazzi una buona sudata ottimo lavoro Mice Nox ci siamo hai trovato Arons negativo la sua scrivania cominciamo la sua scrivania cominciamo ho trovato qualcosa Nox abbiamo trovato tutto l'incontro sarà all'hangar tra poco l'hangar è isolato non ho visuale non sarà facile entrarci cazzo Nox c'è un problema il sistema ci ha tagliato lo vedo sono in massima allerta arrivano delle pattuglie dovete andarvene arriva un convoglio ingresso nord ovest 30 secondi veloce Mitchell o perdiamo il passaggio intrusioni è un intrusioni e pugno per l'ascensore ecco il comodo nox dobbiamo portarci in positive usa il citofono in temporeggia Roger Mitchell seguimi al mio segnale salve con due generalità e con le dei patriteri ora salve è qui con me c'è il dottor Bella deve vedere il signor un momento ok ci siamo nox ok potete andare vi aspetta buona serata bella mia nox fa una ricerca già fatto è un alias del dottor Pierre Danois quello del capo a guard ilona se lo fosse martire in cella anch'io nox mandato qualcosa vuol dire che da guai dicevo c'è un problema di sicurezza che è succedo venga il signor iron siamo in pericolo chi c'è spiacente signore abbiamo degli ordini da seguire ecco qua certo scombrare l'area e prepararsi al trasferimento container 726 priorità alfa omega ripeto container 726 priorità alfa omega ok nox apro il canale confermato pronto a rincesare non essenziale si regge a livello inferiore per identificazione chiaro se che la stilistro matricola e gruppi di spedizione coincidono non ci saranno problemi non vorrei che gli intrusi scoprissero che cosa c'è dentro il container dottore stiamo facendo il possibile manticore è instabile e altamente volabile la ringrazio per l'avvertimento verrà in meno alla mia parola se un'esposizione prematura rovinassi i suoi piani chi è tranquillo tanoa ha già i soldi sul porto da qui in poi facciamo ok ok ecco qua ok in mare un'altra volta eccoci qua ragazzi la missione è finita queste missioni stanno durando un po' di meno rispetto al solito potenziamenti non abbiamo da farne e ragazzi vi ringrazio lasciate like e iscrivetevi come è scritto qua sotto ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi